Incendio al primo piano di una palazzina in via Boccassini, nel centro di Barletta. Nel pomeriggio di martedì, fumo e fiamme hanno avvolto all'interno di uno stabile, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti al momento del rogo. I residenti dell'edificio, infatti, appena percepito il pericolo, si sono riversati in strada e hanno allertato il comando locale dei vigili del fuoco. I condomini che abitano l'appartamento in cui è divampato l'incendio non erano in casa negli attimi che hanno preceduto l'incidente domestico. Intervento tempestivo sul posto con il supporto di carabinieri e polizia locale per agevolare l'arrivo degli automezzi. Nei pressi della palazzina anche un'ambulanza che ha prestato soccorso a chi ha abbandonato provvisoriamente lo stabile. Tra gli occupanti anche donne e anziani con il personale sanitario che si è sincerato delle loro condizioni. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio nel giro di pochi minuti mettendo poi in sicurezza la zona circostante. Cause ancora da accertare rischio scampato per i residenti che in alcuni degli appartamenti più datati dell'edificio dispongono ancora di bombole di gas.